Bentornati su MyFootballJersey. Dopo aver visto la seconda maglia della Francia, non poteva mancare la prima. Questa è in edizione player, vi ricordo, non ancora ufficiale, la maglia di un campionissimo di Mbappé. La maglia di un campionissimo di Mbappé. A me la maglia piace, piace principalmente perché il tessuto della versione player è veramente molto elegante, molto ricercato. Mi piace lo stemma, l'avevo già detto, della seconda versione, mi piacciono questi, diciamo così, dettagli della maglia che rimane comunque semplice ma veramente piacente. Il costo, come avete visto, molto basso, i tempi di spedizione sono mediamente 3-4 settimane, c'erano anche delle festività, quindi devo dire molto soddisfatto. Prima di lasciarvi, vi ricordo che se volete vedere nuove maglie, scrivetelo nei commenti. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima!